Sempre è stato così, anche quando c'era l'isola ecologica non ne parliamo proprio come era, in che condizioni pietose era. Continua il viaggio di TV City per documentare i disagi dei residenti e non solo, in zone della città di Torre del Greco che versano in uno stato di abbandono e degrado. Dopo Viale Aldomoro, questa mattina sopra il luogo delle nostre telecamere, nell'area parcheggio di Via Scimaglia, a seguito di numerose segnalazioni giunte alla nostra redazione, in particolare per lo stato indecoroso della scala che conduce a corso Vittorio Emanuele. Ha visto le condizioni della scala? Non ne parliamo proprio, là c'è paura di salire se esce qualche topo o qualcosa. Esce spuglie, erba in tutta la città? Da per tutto, da per tutto, non ne parliamo delle zone periferiche, io abito a Via Fiorillo, là non ne parliamo proprio, non ci passa mai nessuno a spazzare. Quindi è sporca quella zona? Sporca. Un appello da cittadina all'amministrazione comunale? Allora si è fatto tanto per diventare amministratore comunale, ma non si è fatto niente per la città. Rifiuti, erbacce, il quadro si ripete. Ho paura di salire, potrebbe uscire qualche topo. La gente è indignata. Anche i non abituali frequentatori del parcheggio. Un'aria da tempo penalizzata e mortificata per la presenza in passato di un'isola ecologica. Non mancano gli appelli all'amministrazione comunale. Escrementi dei cani, erba alta, aria sporca? Sicura tutto, tutto, tutto. Un appello da cittadino al sindaco? E' al più presto possibile mettere un po' di verde pubblico. Lei pensa che lo stato in cui versa questo parcheggio sia attribuibile all'inciviltà delle persone? Sì, sì, sì. Hanno appulizzato pure, sono gente che non hanno un nez. E anche le condizioni della strada non sono delle migliori, considerate le erbacce e gli ingombranti abbandonati da mesi. Grazie. 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 Grazie.